Sono bravo a fare l'edale sveglia di farmi dire queste cose brutte Io sono BuzzBud Bene a tutti ragazzi io sono Robi dello Sero Mi piace FabiJ e quindi copio le sue intro Ciao Ti va bene È entrato davvero non ci credo Ciao Ma è gotto Dimmi Dove è casetto dimmi Ciao Io per mattina ti metti la targhetta youtuber Sono famoso Io sono Batman Quasi 500 No uscritti non ne hai C'è 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 Secondo non c'è Chi è che non c'è Ah su ti è Ho capito Eh sì Me la metti Scrivi Scrivi I I I Non piedi Di fianco E' a posto Tanto basta che Si diverte così Non ha bisogno di Granda Roma Hai mandato la richiesta al Fonder E' chi è il Fonder La prima volta che entro su sto server Ma esiste anche Ma pensavo fosse una di quelle minchiate di server lì Tipo quello dove gioca a fare Oddio Come si manda la richiesta al Fonder? Chi è il Fonder poi? Vai a casa del Fonder Gli bussi a porti Ehi Gli fai youtuber Ma certo Sei il ventunesimo questa settimana Ma sei già per un 83 per matti Vai lab Sono a sinistra Ci sono le istruzioni Ecco Qual è l'IP del server? Non lo so nemmeno Ah se MCPster Qualcai lo so Allora La prima Minecraft Che versione è? Ma è uno di cui server Dove c'è la vanilla Si vanilla e si vanilla tutto il tempo Allora andiamo in ultima versione Fa crescere i coglioni Che bello Mi piacciono che ci perda Si anche a me è molto Mai giocato in vanilla Mai giocato in vanilla E vado a non sapere vanilla Gang Io gioco sempre in vanilla Cioè tu sai che la vanilla è il mio si del vita Ipermatti ma te sei davvero un 83 Io sono cara Mi sto facendo una sconsidizzazione a questo server Di cui non me ne prego No Ok ciao Cara non devi spammare Cara non funziona Fuggo allora Allora Robby chiudiamo TS E parliamo su Skype Disconnected Ok Robby Robby smutati su Skype Ok Ci sono Allora Sponsorizziamo il server Allora Bella raga Mi hanno detto di Allora questo server ci gioco da parecchio tempo E mi piace particolarmente Per via di queste modalità Che voi come sapete Io ho sempre giocato tipo La vanilla Come sapete sono molto carine Effettivamente Mi danno la targhetta YouTube Solo se faccio questo miglio di merda Quindi Tutto serve una sconsolizzazione bellissima Ciao E così che sono Sonsolizzazione Ti devo insegnare veramente tutto Ti devo insegnare le basi Eh Sì 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 Eh 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 Non riesco Non riesco ai tatti Ma dai ma non so più giocare io Ma non puoi Ma aspetta Ma non puoi più Cioè hai scassato Mamma Guarda 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 No Siete voi che non capite la sua bravura nel gioco Che carino Anche quei hacker No E beh Rega entrate in sto server Perché ci sono gli hacker Quindi signori Io spero che se ti stai lasciato Mi raccomando Ascoltate un po' di pulizia Iscrivetevi 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 Date un bacetto A dei vostri biscotti preferiti Perché così loro sono felici Allora Entrate sul server MC.pensieroguador.it Io so quante volte ho letta Parlo a continuare E nulla Un bel server Noi ci vediamo al prossimo video Vero Roby? Sono Batman Sono Batman? Ti guardano Roby? No 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 non mi stanno Te che mi Smettetela di guardarmi Io sono Baffa È bella 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 Vabbè Ciao Ciao Ciao